Buongiorno, il libro La Via del Ritorno è tra l'altro una riflessione sulle umane vicende. Vita e morte, immigrazione e accoglienza, giustizia e ingiustizia, sogno in particolare di una scuola ideale e realtà della stessa, speranza e disperazione. La Via del Ritorno, del ritorno quindi della vita, della pace, dell'accoglienza, della giustizia, della speranza e dell'utopia. A camminare su questa via invito chiunque abbia avuto la fortuna di nascere e di rimanere nel Paese nativo e chiunque abbia sperimentato l'allontanamento dallo stesso e poi il ritorno al medesimo e chi il luogo può averlo smarrito e ne sia alla ricerca. Invito chiunque ami la lettura perché leggere è uno stupendo sentiero di andate e ritorno, un andirivieni senza fine di gioia e di felicità, di ansia e di tormento nei corrispondenti momenti più belli e in quelli meno belli della vita. Buona giornata a tutti.